Brian. Neil, se la cosa andrà a buon fine, lei entrerà nella storia. Che pensieri le passano per la testa all'idea che questa missione potrebbe essere un successo? Noi prevediamo che la missione sarà un successo. Io intendevo cosa prova nel sapere di entrare nella storia. Proverò a chiedirvelo io. È una responsabilità, ma è anche eccitante essere i primi. Anche mia moglie non sta nella pelle e continua a infilare gioielli nel mio kit personale. Intende portarsi dei gioielli sulla luna, Buzz? Certo. Quale uomo rifiuterebbe alla moglie il diritto di vantarsi? Neil, lei porterà qualcosa? Potendo, porterei altro combustibile.